Bentrovati, bentrovati ad un nuovo video tutorial firmato fabioambrosi.it Oggi risponderò, cercherò di rispondere almeno ad una domanda che mi viene fatta molto spesso anche qui su YouTube da molti utenti ovvero come fare un buon audio ovvero quale volume deve avere una clip video per poter essere poi distribuita su Facebook, YouTube o nel caso siate particolarmente fortunati per distribuirla su Netflix o altre piattaforme video digitale prima però vi ricordo come sempre se vi fa piacere di iscrivervi alla mia pagina Facebook cercatemi come Fabio Ambrosi qui verrò pubblicando di tanto in tanto i tutorial che stiamo seguendo e qui cercherò di aggiornarvi anche sulle prossime novità del corso di Adobe Premiere ma anche di altri corsi che ho intenzione di realizzare in autunno e nei mesi prossimi vi invito ovviamente ad iscrivervi al mio canale YouTube per non perdere i prossimi tutorial e se vi fa piacere vi consiglio anche di fare una capatina qui sul mio sito internet www.fabioambrosi.it perché qui ci sono gli articoli ad ogni video lezione cliccando sul corso Adobe Premiere scendendo potete trovare l'indice di tutti gli argomenti trattati fino ad ora e anche degli argomenti che tratteremo fino alla fine di questo corso siamo oltre la metà quindi ormai ci avviciniamo quasi alla fine di questo corso introduttivo su Adobe Premiere ma bando alle cange parliamo di audio la domanda a cui cercheremo di rispondere quest'oggi è come fare un volume corretto per le nostre clip multimediali cioè detta semplicemente quanto forte deve essere il suono quando produciamo un video innanzitutto dobbiamo parlare di come misurarlo il suono cioè come capire quanto forte è il volume del nostro suono beh non tutti forse lo sanno sicuramente sì però uno strumento importante per poter misurare il suono è il V-meter il V-meter è in Premiere lo trovate in basso sulla destra di norma ma in altri settaggi, in altre visualizzazioni, in altre aree di lavoro potreste vederlo altrove comunque il V-meter è uno strumento lo ingrandiamo che ci permette di misurare il volume della nostra clip multimediale faccio un esempio mando in play questo progetto e guardate questo V-meter il volume audio è praticamente identico a quello che abbiamo già visto per le transizioni video questo strumento, il V-meter, ci permette di misurare sostanzialmente il volume del suono che stiamo lavorando va detto subito come regola fondamentale quando si lavora al volume di una produzione multimediale che per nessuna ragione per nessuna ragione quando lavoriamo con l'audio digitale il suono deve arrivare a toccare o peggio superare il valore degli 0 decibel 0 decibel è il valore massimo che nel suono digitale, nell'audio digitale può avere un suono per l'appunto superato questo livello o anche raggiunto questo livello l'audio rischia di essere, come si dice in gergo, saturo faccio un esempio di audio saturo, bene questo è un audio saturo, questo è un volume che non dovrete mai raggiungere e non è corregibile ecco, come regola ovviamente non dovete mai arrivare a questi eccessi per poter lavorare bene un suono è bene stare attenti in fase di ripresa ovvero quando uscite con la troupe a girare piuttosto che quando realizzate voi stessi il vostro filmino ad impostare un volume di registrazione corretto quando fate le riprese video dovete in qualche modo assicurarvi che il volume sia intorno ai meno 10, meno 12 decibel questo perché? perché quando uno parla magari può avere dei picchi verso l'alto e mandare in distorsione il suono per qualche istante quindi, prima regola quando lavorate un video se avete la fortuna di essere voi stessi gli autori del video in fase di ripresa, in fase di registrazione assicuratevi di mantenervi leggermente più bassi perché? perché un audio basso può essere alzato e migliorato un audio troppo alto difficilmente sarà recuperabile ma quale volume impostare quando dovete distribuire il vostro lavoro? facciamo finta che voi avete realizzato un montaggio avete fatto un video dovete consegnarlo su facebook, su youtube, su spotify su amazon prime, su netflix ipotizziamo e la domanda sorge spontanea quanto forte deve essere il suono? purtroppo non esiste una regola mi spiego a seconda del canale di distribuzione verso cui andrete a distribuire il vostro prodotto multimediale esistono delle specifiche ben precise se voi state lavorando per voi stessi e state realizzando un video che poi comunque dovrà essere condiviso su facebook, youtube o su qualunque social network o in generale su internet diciamo che tendenzialmente il suono può arrivare a sfiorare gli 0 decibel senza mai toccarli ovviamente perché se io alzo troppo il volume e faccio un esempio volete saperne di più? ecco questo è assolutamente da evitare ok? ad ogni modo quando lavorate per i social network o comunque in generale per internet la regola è di alzare il più possibile fino ad arrivare a sfiorare meno 0,5 decibel ecco senza esagerare e rischiare qui di arrivare allo zero quando invece lavorate per realtà più importanti come può essere netflix ma anche una televisione sul digitale terrestre piuttosto che satellitare qui purtroppo una regola non esiste o meglio esistono tante regole e sono molto ferree ogni canale tipo netflix ha le proprie specifiche ogni canale ha i propri valori di riferimento quindi in quei casi dovete confrontarvi con il distributore del video e chiedergli i parametri che devono essere rispettati quando si realizza un suono va detto anche che se siete fortunati e lavorate per una grande produzione molto probabilmente non sarete voi a dover curare l'audio definitivo nelle grandi produzioni esistono gli ingegneri del suono esistono delle figure professionali con l'esperienza e le competenze per produrre un suono di ottima qualità nelle prossime lezioni, nei prossimi capitoli vedremo alcuni strumenti che Adobe Premiere mette a nostra disposizione per arrivare per esempio a meno 0,5 decibel senza mai superarli esistono infatti i compressori del suono, i limitatori esistono degli strumenti pensati proprio per ottimizzare il segnale audio senza rovinarlo per il momento mi fermo era una lezione come vi avevo anticipato teorica ma nel prossimo video tutorial andremo sul pratico e vedremo fisicamente e praticamente come fare per alzare il volume senza rovinarlo vi invito come sempre ad iscrivervi a questo canale youtube per non perdere i prossimi tutorial vi invito a venirmi a trovare sul sito internet www.fambiambrosi.it se vi fa piacere c'è anche la pagina facebook a cui potete mettere mi piace per non perdere le novità che probabilmente ci saranno in autunno o comunque nei prossimi mesi grazie ancora, buon proseguimento, ciao